Pronto in 5 minuti, cremoso e saporito, vorrai sempre condire la tua pasta in questo modo. Il pesto di limoni è il condimento perfetto per l'estate. Ti bastano limoni freschi, basilico, parmigiano, olio d'oliva evo, aglio e un po' di prezzemolo. E vedrai che è buono! Versa nel mixer il succo di limone e grattugia anche la scorza. Aggiungi i pinoli, l'olio evo, sale e pepe. Per un gusto più deciso puoi anche tostare i pinoli in padella o al forno. Aggiungi anche il parmigiano, l'aglio, il basilico fresco e un po' di prezzemolo. Ecco, abbiamo già fatto! Sarà pronto in meno di un minuto. Scommettiamo? Frulliamo. Dovrai raggiungere una consistenza cremosa. Proprio così. Guarda! Versa il tuo pesto in un vasetto sterilizzato, poi lo metti in frigo. Fin quando non deciderai di usarlo per farti una bella pasta o per farci dei crostini all'aperitivo. Il pesto di limoni è il condimento perfetto per l'estate. Io non resisto, quindi lo provo subito con un piatto di spaghetti. Ti basta versarne qualche cucchiaio in padella. Aggiungere gli spaghetti al dente e un po' di acqua di cottura e mantecare per qualche minuto sul fuoco. Senti che cremosità! Decora con una fogliolina di basilico che non guasta mai e assaggiamo. Questo vasetto ti salverà la cena o il pranzo. Fidati! 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 Fidati!